Sono tornati sui banchi oggi gli alunni delle scuole superiore aquilane dopo la protesta, ma si continuerà a parlare lo stesso dei problemi che affliggono gli studenti e assicurano. Resteranno a casa invece fino a mercoledì gli studenti del liceo Cotugno, in seguito alla richiesta di altri tre giorni per l'analisi delle verifiche condotte sul plesso da parte della provincia Antonio De Crescentis. Si torna a scuola con la paura, hanno detto i rappresentanti del Colecchi, ma non abbiamo scelta, visto che rischiamo di perdere l'anno scolastico. La nostra, hanno detto i ragazzi, è una scelta di irresponsabilità, ma la protesta continuerà al di fuori dell'orario scolastico, con assemblee e incontri, per sollecitare ogni giorno le verifiche di vulnerabilità sugli edifici. Non è esclusa la possibilità di organizzare dei sit-in davanti alle siedi di comune e provincia e regione, per chiedere soprattutto rapidità nelle verifiche. Di fatto i ragazzi delle superiori, nonostante la decisione del sindaco di riaprire le scuole dopo la sospensione con ordinanza, avevano deciso di disertare le lezioni con lo sciopero. Oggi sono riprese regolarmente anche le lezioni delle scuole elementari e media dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Pizzoli, presso il campus Giulia Carnevale, con 16 nuove aule in tempi record, 10 per la scuola elementare e 6 per la scuola media. I lavori, iniziati lo scorso 25 gennaio, sono davvero stati completati a tempo di record. La scuola dell'infanzia Palo del Tosto, invece, aveva già ripreso l'attività il 30 gennaio. Aule più piene anche nelle scuole medie, dove si sono conclusi venerdì alla Patini, gli incontri con i genitori. I tecnici hanno spiegato che l'edificio, classificato Bidope il 2009, è stato oggetto di lavori di rafforzamento e di numerosi controlli, dunque sicuri. Il verbale dell'ultimo controllo è stato pubblicato anche sul sito della scuola. La paura di questi giorni non ha risparmiato però neanche gli studenti universitari, per i quali tutto è tornato alla normalità, anche in questo caso, dopo la chiusura di tre giorni, che è coincisa con quella delle scuole ordinata dal sindaco. La rettrice Paola Emberardi ha spiegato che tutte le sede dell'Università dell'Aquila sono tornate agibili e ci sono stati anche test di vulnerabilità in tutti gli edifici, di cui si sta occupando uno spin-off di ingegneria. Inoltre, ha spiegato anche la Emberardi, con l'Università di Napoli si sta mettendo a punto un grande progetto per il libretto di sicurezza di tutti gli edifici dell'Università. Per la rettrice non c'è stata nessuna fuga. I trasferimenti degli studenti dello scorso anno sono stati 233, quest'anno sono 90 in meno. Ciò significa che gli studenti, ha spiegato l'Emberardi, non si sono fatti mai influenzare dalla situazione.